E ben ritrovati sul mio canale ancora una volta, un saluto da Simone Questo è un nuovo fact time a sorpresa E no, non nel senso che Ehi, non ve l'aspettavate? No, perché a sorpresa, perché io le domande ancora non le ho lette Quindi ci potrebbero essere scritte delle cose assurde, non lo so E quindi è una sorpresa per me Ma senza perdere altro tempo rispondete alla hashtag DDG Che trovate qua sopra di me, oramai sapete meglio di me come funziona E lasciate tanti mi piace qua sotto, cerchiamo di arrivare a 500 Perché YouTube si sta accorgendo in una maniera incredibile del lavoro che stiamo facendo Infatti stiamo facendo davvero un video al giorno A parte gli ultimi due che sono stati davvero dei giorni problematicissimi Quindi non siamo riusciti né io né Andrea in effetti a pubblicare neanche il video news domenicale Ma scusateci Però per il resto stiamo davvero facendo un video al giorno E YouTube si sta accorgendo di questa cosa a quanto pare Perché le notifiche stanno sempre arrivando E comunque sta sempre più spingendo tra virgolette anche i numeri del canale Perché anche il numero di visualizzazioni sta crescendo sempre più Mi raccomando supportatemi, lasciate tanti mi piace E iniziamo subito con il video Iniziamo con la prima domanda che mi fa già capire quale sarà il tenore di sto video Andrea Cervone, vero Andrea Cervone, non come lo scorso video Mi chiede cosa ne pensi del pensiero? Ne penso bene, ok? La seconda domanda me la fa CK2904 Proprio scritto CK E' veramente bellissimo Questo nickname che mi chiede Hai mai avuto Windows Phone? Sì Ho avuto un Lumia 640 per un bel po' di tempo Però contemporanea con altri smartphone Se non era l'iPhone 6 Quello che avevo assieme al 640 E a un altro Android che non mi ricordo Ma non mi ha lasciato un bellissimo ricordo Più che altro per le applicazioni che già a quel tempo erano un disastro La terza domanda me la fa Hai Matteo Pau che mi chiede Ask Simone Pensi che con iOS 11 sul nuovo iPad Pro da 10.5 Ci si può veramente avvicinare ad un utilizzo produttivo? Secondo me sì Ed è il primo iPad che in effetti può vantare questa cosa Ovviamente non è un computer Apple non è un computer È inutile che continui con le tue pubblicità Puoi sostituirlo al tuo computer? No Però sì, si avvicina ad un utilizzo produttivo Non da computer Un altro tipo di utilizzo pur sempre produttivo Sean, credo Perché sean Quindi dovrebbe essere Sean Mi chiede Ask Simone Credi che gli smartphone stiano diventando sempre più scomodi e poco pratici nell'utilizzo quotidiano? Dimensioni esagerate? Secondo me sì Ed è questo in effetti che mi fa un po' Storcere il naso verso alcuni smartphone davvero troppo padellona Per esempio i nuovi Xperia Per quanto siano belli Pur non facendomi impazzire l'interfaccia Sony Perché l'ho sempre detto è quella che mi piace di meno in assoluto Devo essere sincero il nuovo Xperia Quello che praticamente fa il rallenti a mille rotti frame Mi piacerebbe tantissimo provarlo Però è una padella gigante È troppo... No È troppo troppo Certo io parlo da utilizzatori di iPhone 7 Plus Che è enorme anche quello Però in effetti è già un po' diverso Perché comunque è molto arrotondato Robbe varie Insomma comunque è abbastanza più tra virgolette semplice da impugnare Pur io avendo la mano molto grande Comunque mi rendo conto che alcuni smartphone sono esagerati E molte persone infatti non li comprano Perché sanno che gli cadrebbero ogni mezzo secondo Ed è vero perché l'ho sperimentato con alcuni amici Che hanno comprato per esempio l'iPhone 6 Plus, 7 Plus, 6S Plus Che hanno sempre lo schermo distrutto Perché è troppo grande e gli scivola Sta andando a perdere quello che è l'utilizzo smart dello smartphone Anche se in effetti con questa inversione di marcia Che ha fatto da Samsung a tutti gli altri praticamente Con gli schermi sempre più grandi Però su dimensioni sempre più piccole Secondo me si andrà ad avere per esempio Uno smartphone delle dimensioni dell'iPhone 6 O dell'iPhone 7 Che secondo me è la dimensione proprio perfetta Con un display molto più grande E secondo me sarebbe quella la dimensione perfetta E ci stiamo, a parer mio, arrivando Quindi speriamo bene PixelGoat8 mi chiede Ask Simone Elenca tre cose che ti piacciono di Windows Phone Windows 10 Mobile Poi Ask Simone Me lo chiede Federico Fede Giannitto Che mi chiede Pensi di comprare iPhone 8? Sì Sì Anche perché io ho fatto quell'opzione con la 3 Di 12 mesi E poi sostituisci il telefono Eccetera eccetera Quindi credo proprio di sì Credo che lo prenderò Persi mi chiede Ask Simone Ti piacerebbe vedere il ritorno di Windows Phone? Complimenti per il canale Grazie mille Non so perché questo Ask Ci sono solo domande su Windows Phone Comunque no Non mi piacerebbe per il semplice motivo che Windows secondo me Non è fatto per il mobile È inutile che ci giriamo intorno Non ci sta bene Più che altro perché Oramai il mercato con due parti così grandi Che sono Android e iOS Non ne può più Cioè gli sviluppatori non andranno mai a sviluppare applicazioni Per telefoni Che comprano in pochissimi alla fine E quindi non ci rientrano neanche dei soldi spesi nell'ingegnerizzazione Blah 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 Il vero problema di Windows Phone non era Windows Phone Perché a me è sempre piaciuto Il vero problema di Windows Phone sono le applicazioni Ed erano le applicazioni Anche perché oramai Windows 10 Mobile Non sta andando alla frutta anche quello Andre mi chiede Cosa ne pensi delle Apple TV? Ne hai una? Allora no Non ne ho una E secondo me Per l'Italia non sono una grande cosa Nel senso che sono molto più interessanti Per il mercato per esempio degli Stati Uniti Perché lì tutto alla fine funziona Con un grande ecosistema E vedono le cose in maniera un po' diversa Anche i servizi offerti sono diversi Insomma secondo me qua in Italia non ha troppo senso Però la trovo una cosa molto simpatica E che comunque con un prezzo abbastanza contenuto Può anche valer la pena Riccardo Scheriani mi chiede Ask Simone Secondo te vale la pena ricomprare adesso il Note 7? Ovviamente non quello fallato Nel senso non quello che esplodeva Ma la nuova versione di Note 7 E se non sapete di che cosa sto parlando Andatevi a riprendere l'ultimo O uno degli ultimi video di Andrea Blackgeek Tutorial Sul suo canale Il nuovo Note 7 Che è quello appunto senza questo problema della batteria Secondo me può essere davvero interessante Perché comunque ricordiamoci che il Note 7 Era un signor telefono A parte questo problema Più che altro ormai sta per uscire il Note 8 Visti un po' di rumor Un po' di leak E sembra davvero una bomba Ma non fate battute sul fatto che esplodeva Ho detto che era davvero una bomba E vi prego Però comunque questo Note 8 Sembra davvero bellissimo E quindi secondo me a sto punto è meglio aspettare Tenersi qualche soldino in più da parte Ed essere davvero proiettati nel 2018 Barra fine 17 Perché secondo me questo Note 8 Sarà bellissimo Marco e anche altre tantissime persone Mi hanno chiesto come è andato l'esame di maturità Ragazzi ho fatto un video apposta Andatevelo a recuperare Ve lo lascio nella scheda che trovate qua sopra di me Quindi premete la i e scegliete Quello dei tre video che riguarda la maturità Ho fatto tutto il recap Il voto finale Ho detto tutto quanto Thomas Guerini mi chiede Faranno mai un iPad con 3D Touch? Secondo te? Sì? No? Perché? Allora no Per il semplice motivo che facendo un 3D Touch Su un display grande così E sottile così Diventerebbe questo Il 3D Praff Traff Proprio si distruggerebbe l'iPad Quindi secondo me è proprio ingegneristicamente impossibile Questa cosa Perché il 3D Touch sull'iPhone Basta premere Perché comunque la mano ce l'hai su tutto il telefono Quindi non è che si piega o roba del genere Ma un 3D Touch su un display così Che tieni soltanto da un lato Secondo me si Poi si distrugge tipo Quindi no Secondo me Anche perché non avrebbe troppo senso Daniele invece mi chiede I tuoi professori erano a conoscenza del tuo canale YouTube? Sì assolutamente sì Anzi Praticamente ho fatto Pubblicità io al mio canale Anche a scuola Quindi sì Ne erano tranquillamente a conoscenza Quindi grazie mille per essere passati Queste erano le domande che mi avete fatto su Twitter Ovviamente vi ricordo di Mettere il follow qua sotto Nel mio profilo di Twitter Del mio canale YouTube Nel mio profilo Instagram E tutto quello che vi pare Insomma Seguitemi Questa andare in descrizione Trovate tutti i link dei miei profili social E per il resto Grazie mille per essere passati Noi ci rivediamo domani Con un nuovo video Sempre qui sul mio canale E ancora una volta Un saluto da Simone Ciao